Noi tante volte siamo convinti che riusciamo a vivere le cose perché le abbiamo capite in teoria e vediamo che è così. E così per l'amore e per la vocazione, per le scelte grandi, si impara a fare provandoci. Chi però ci prova e ci riprova ancora, ci riprova ancora un'altra volta, allora davanti alle grandi cose che ci accadono, ha più chance, perché ha più consapevolezza di se stesso. Allora cari Omar e Alessia, non stancatevi mai di provare a vivere il suo amore. E solo così non vi stancherete, aiuterete altri a vivere e sarete abbracciati per sempre. Auguri. Inizio It's something you should do all the time Keep exploring, seek and find You know you might surprise yourself Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti